Ma bentornati in una nuova puntata di Whatsapp Economy. È praticamente dalla fine di marzo che parliamo di soldi europei, di debito pubblico comune europeo, di quando arrivano, di come funzionano grants, loans, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, signori, abbiamo una prima risposta a tutto questo gran discutere. Infatti, qualche giorno fa, la von der Leyen, che è la presidente della Commissione Europea, ha dichiarato che sono arrivati i primi 10 miliardi di euro all'Italia per quanto riguarda il programma Shure. Ne abbiamo già parlato in precedenza. Lo Shure è un programma che dovrebbe sostenere le finanze pubbliche di ogni Stato andando a supportare la cassa integrazione. Quindi dovrebbe aiutare i lavoratori autonomi, in particolare, di ogni singolo Stato europeo. Per sostenere queste spese, la Commissione Europea, il 20 ottobre, ha emesso i suoi primi titoli obbligazionari, che sono garantiti dal bilancio europeo, a cui tutte le nazioni fanno parte e danno la propria disponibilità finanziaria. Un'altra cosa interessante di questi titoli obbligazionari è il fatto che sono stati assicurati come dei social bonds, e cioè dei titoli obbligazionari che avranno un rilevante impatto sociale. E hanno tutta una serie di procedure che dovranno rispettare per poter garantire questo elevato impatto sociale alle persone e all'economia reale. I soldi provenienti dallo Shure sono dei prestiti. Quindi l'Italia, come tutti gli altri paesi che hanno aderito a questo programma definito Shure, dovranno restituire questi soldi. La cosa però interessante è che i tassi di interesse su questi prestiti sono uguali a quelli che la Commissione Europea ha emesso le proprie obbligazioni. Infatti, il 20 ottobre, la Commissione Europea ha emesso due tipi di obbligazioni, uno con scadenza decennale e uno con scadenza ventennale. Per il decennale il tassi di interesse è pari almeno 0,24%, mentre per il ventennale è uguale al 0,13%. Quindi l'Italia soffrirà di tassi di interesse negativi per i titoli decennali, cosa che fino ad adesso non ha mai fatto. Quindi sì, lo Shure è conveniente. A meno che non siete di quella fazione di parte politica e anche economica un po' strana che dice che la Banca Centrale dovrebbe finanziare qualsiasi cosa. Torta quella fazione, sì, lo Shure è conveniente perché ad oggi, sui titoli di Stato decennali, l'Italia paga dei tassi di interesse leggermente positivi e non negativi, pari almeno 0,24%. E quindi lo Shure è iniziato a funzionare e sarà un importante strumento, soprattutto visti gli ultimi aggiornamenti di questi giorni, con la pandemia che si sta riacutizzando e con un probabile lockdown all'orizzonte. E ovviamente in queste situazioni l'intervento dello Stato garantendo la cassa integrazione per tutti i cittadini sarà fondamentale e quindi di conseguenza anche lo Shure. Ma lo so cosa vi state chiedendo voi. E il Next Generation U? Quando arriva? A che punto siamo? È una domanda anche che mi hanno fatto gli abbonati, che sono lo sponsor di questa puntata. Grazie al programma abbonamenti avrete a disposizione, oltre al canale Telegram, dove io posto le notizie del giorno e possiamo avere un contatto diretto non solo con me ma con tutta la community di WhatsApp Economy, ovviamente abbonato al canale, contenuti esclusivi, video di approfondimento e anche una nuova serie che ho iniziato da poco in realtà che si chiama Diario di Bordo, che ogni mese vi presento un po' dietro le quinte di tutti i lavori di WhatsApp Economy. Oltre a tutti questi vantaggi, per gli abbonati c'è la possibilità di scegliere l'argomento di un video. Tutto questo a soli 1,99€ al mese. Vi lascio il link in descrizione se volete unirvi agli uomini economici di WhatsApp Economy. Quindi, Next Generation EU, a che punto siamo? Cerchiamo di dare qualche risposta in questo video. Il Next Generation EU ha un importo di 750 miliardi, che potranno essere spesi dalle nazioni tra la metà del 2021 e dentro la fine del 2023. Di questi 750 miliardi l'Italia avrà un importo pari a più o meno 200 miliardi. Ancora le cifre non sono definitive perché una parte di questi fondi sarà decisa successivamente in base a quanto il PIL diminuirà in questa crisi da coronavirus. Di questi quasi 200 miliardi, circa 65 miliardi sono a fondo perduto, quindi non andranno ad aumentare il debito pubblico italiano già abbastanza elevato. Mentre gli altri 127 miliardi sono dei prestiti che la Commissione Europea concede all'Italia e che quindi poi dovrà l'Italia restituirli di nuovo alla Commissione Europea. Però ha dei tassi agevolati e quindi sostanzialmente favorevoli a mantenere una stabilità economica e finanziaria del paese. Quindi una gran quantità di soldi che potrebbero dare una grande mano per rilanciare l'economia di questo paese, che adesso sta zoppicando a causa del coronavirus. Ma la grande quantità di soldi potrebbe far gola a chi potrebbe dare mance elettorali e fare promesse che non sarebbero sostenibili nel lungo periodo. E per questo la Commissione Europea ha messo le mani avanti. Infatti il 17 settembre ha proposto delle linee guida per poter accedere a questi soldi, che il MES veramente impallidisce. Ogni Stato europeo per poter accedere ai fondi del Next Generation EU deve rispettare quattro principi guida, delle raccomandazioni specifiche per ogni paese e sette obiettivi principali. I quattro principi guida sono sostenibilità ambientale, produttività, equità e stabilità macroeconomica. Ad esempio, per la sostenibilità ambientale, la Commissione Europea impone che almeno il 37% della spesa deve essere rivolto per la green economy. Oppure ancora, per rispettare il principio guida della produttività, almeno il 20% degli investimenti derivanti dal Next Generation EU devono finanziare la transizione digitale di imprese e famiglie. Sulla stabilità economica, cercare di rendere le finanze pubbliche sostenibili, cosa che abbiamo già parlato in un altro video, mentre per l'equità cercare di ridurre il gap sociale che attualmente la crisi da coronavirus sta aumentando purtroppo. Le raccomandazioni specifiche della Commissione Europea per quanto riguarda l'Italia sono tutte più o meno tematiche che abbiamo sempre trattato all'interno delle puntate di WhatsApp Economy. Andiamo a vederle molto brevemente. Incrementare gli investimenti, sostenere la ripresa economica dopo la crisi da coronavirus, promuovere mobilità di lavoro flessibile e di sostegno attivo all'occupazione, rafforzare le competenze digitali di imprese e famiglie, fornire liquidità all'economia reale, migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica amministrazione, ristrutturare il sistema fiscale italiano, potenziare la diffusione dei pagamenti elettronici, che l'Italia è uno degli ultimi paesi in questo senso a livello europeo, contrastare il lavoro sommerso, orientare gli investimenti verso ricerca, innovazione e qualità delle infrastrutture, riducendo le disperità regionali, investire nella rete 5G, ridurre gli ostacoli alla concorrenza, in particolare nel commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, ridurre la durata dei processi civili, sostenere la partecipazione femminile al mercato del lavoro, potenziando l'assistenza all'infanzia, eccetera eccetera. Come al solito vi lascio il link in descrizione se volete approfondire. Però come vedete più o meno sono tutte tematiche che in un modo o nell'altro qui su Whatsapp Economy abbiamo trattato e questo un po' ci rincuora. Quindi tutti i progetti del Next Generation EU dell'Italia non solo dovranno rispettare i quattro pilastri che abbiamo appena citato, non solo le raccomandazioni europee, ma anche sette obiettivi principali. Andiamo a vedere anche questi. Utilizzare più energia pulita, incentivando il sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili. Rinnovare, e cioè migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. Ricaricare e rifornire. Promuovere tecnologie pulite adeguate alle esigenze future per accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti. Stazioni di ricarica e rifornimento e le estensioni di trasporti pubblici. Collegare, e cioè estendere rapidamente i servizi veloci a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra, ottica e 5G. Modernizzare, e quindi cercare di digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari. Espandere, e cioè aumentare la capacità di cloud industriale europeo, di dati e lo sviluppo dei processi più potenti, all'avanguardia e sostenibili. Riqualificare e migliorare le competenze, e quindi puntare sull'istruzione, per promuovere le competenze digitali e la formazione scolastica e professionale per tutta l'età. Non solo quelle più giovanili, ma anche quelle nelle fasi di lavoro. Molto spesso dimenticate in Italia. Quindi, come vedete, ci sono tante cose da rispezzare. E più o meno i pilastri sono quelli. Economia verde, digitale, formazione, inclusione sociale e stabilità macroeconomica. Quindi tutti questi obiettivi comunque sempre rispondono ai quattro pilastri che abbiamo citato in precedenza. Le proposte che ogni singolo Stato andrà a presentare per poter accedere ai fondi del Next Generation EU vengono definiti i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. Devono essere presentati tra il 15 ottobre 2020 e il 30 aprile 2021. È molto probabile comunque che il piano italiano, ma anche tutti gli altri europei, verranno presentati verso la fine di aprile. Quindi non mangiamoci la testa fin dall'inizio e non entriamo nel panico perché l'Italia ancora non ha presentato i propri piani. Una volta presentati i piani, molto probabilmente a fine aprile, i paesi riceveranno i propri soldi? Beh, no. Perché infatti la Commissione Europea avrà due mesi di tempo per poter valutare ogni singolo piano nazionale, in modo da essere sicura che questi piani rispettano le condizioni e i pilastri che abbiamo precedentemente analizzato. Ma non è finita qui. Infatti, dopo l'approvazione della Commissione Europea, il Consiglio Europeo avrà altre quattro settimane per valutare ogni singolo progetto. E ogni piano nazionale avrà bisogno della maggioranza qualificata per poter poi accedere ai fondi del Next Generation EU. Quindi, come abbiamo visto, la procedura è abbastanza articolata e anche un po' lunghetta a livello di tempi. Questo però consente non solo la Commissione Europea, ma ogni singolo Stato, di valutare la bontà dei progetti e di essere sicuri che i soldi non vadano spesi. In questo senso però, io valuto tutta la procedura molto positivamente. Perché non dobbiamo pensare solamente all'Europa che ci controlla, ma dobbiamo pensare anche a noi che possiamo controllare gli altri. Perché i soldi sono comuni e quindi derivano non solo dalla Germania, dalla Francia o dalla Spagna, ma anche dai nostri soldi. Ed è quindi corretto che non solo gli altri ci controllino affinché non sprechiamo le risorse degli altri, ma anche noi che dobbiamo controllare gli altri affinché gli altri non sprechino le nostre risorse. E se devo essere sincero, a me rincorrerebbe molto un Presidente del Consiglio che dice è giusta questa procedura perché in questo modo possiamo controllare gli altri paesi come spendono i nostri soldi e non la solita retorica vittimist dell'Europa che ci controlla e non ci vuole dare i soldi. Non lo so, questo atteggiamento su me è molto più positivo e un po' anche rassicurante. Non so voi, ditemi la vostra nei commenti. Come vi ho detto, il termine ultimo per presentare i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza è il 30 aprile 2021. Però la Commissione Europea ha consigliato di lavorarci già su questi piani presentando delle prime bozze, cosa che il Governo si è attivato a fare e ha dato disponibilità ad ogni singolo Ministero di presentare i propri piani. Peccato che questo ha dato l'occasione ai Ministeri di sfoggiare tutte le proprie creatività presentando tutti i Ministeri più di 500 progetti che sono una cifra assurda. Ovviamente di questi 500 progetti il Governo dovrà scremarli e accettare solo quei progetti che rispetteranno le linee guida che abbiamo visto in precedenza. Detto ciò, comunque, una lista di progetti ufficiali ancora non esiste, anche se il Governo si è affrettato a definire degli obiettivi per sfruttare al meglio il Next Generation EU e addirittura questi obiettivi sono stati votati nel Parlamento il 13 ottobre. E io ve lo dico, per me questi obiettivi sono fantastici sono il paradiso, tutto quello che ho sempre sognato da quando ho iniziato a studiare economia. Ma saranno veramente realizzati? Beh, su questo io non vi posso aiutare perché ne ho la minima idea. Andiamo a vedere quali sono. Gli obiettivi sono raddoppiare il tasso di crescita dell'economia italiana, portandolo quantomeno in linea con la media europea, quindi all'1,6% di crescita annua. Aumentare gli investimenti pubblici per portarli almeno al 3% del PIL. Incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo. Conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare all'attuale media europea, 73,2% contro quella italiana pari al 63%. Elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale. Ridurre i divari territoriali di PIL, reddito e benessere, quindi andando a combattere la questione meridionale. Promuovere una ripresa del tasso di fertilità e della crescita demografica. Abbattere l'incidenza dell'abbandono scolastico e dell'inattività dei giovani, quindi andando ad affrontare il problema dei NEET, che abbiamo discusso anche in precedenti puntate di Whatsapp Economy. Migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati, dove anche qui l'Italia fa molto fatica rispetto agli altri paesi europei, con un tasso di ottenimento della laurea molto inferiore rispetto agli altri paesi europei. Rafforzare la sicurezza e la resilienza del paese a fronte di calamità naturali, cambiamenti climatici e crisi epidemiche. Anche questo è un tema che molto spesso si ripresenta in Italia. Vediamo molto spesso intere città o regioni messe al tappeto da bombe d'acqua, esondazioni di fiumi, ecc. E infine garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica. Anche questo votato in Parlamento, quindi ricordiamocelo in futuro. Questi sono tutti gli obiettivi e per me sono degli obiettivi fantastici, che darebbero veramente un grande slancio all'economia italiana. Tutto sta se effettivamente c'è del commitment, quindi dell'impegno dei partiti italiani nel perseguire questi obiettivi. Ovviamente all'interno del documento, che sono una trentina di slide, è specificato anche più in dettaglio come sono strutturati gli obiettivi e quali progetti potrebbero essere accettati. Però ovviamente per non rendere il video lunghissimo e noiosissimo, non posso elencarveli tutti in questo momento. Quindi se volete approfondire, link in descrizione. O al massimo ci facciamo una live su Twitch, perché sì, ho un canale Twitch, JossPub, quindi twitch.tv slash JossPub, e magari potremmo andare lì a spulciare qualcosina in più, altrimenti fate pure da soli. Detto ciò, spero di avervi aggiornato riguardo la situazione Next Generation EU, a che punto siamo. Siamo a un punto che pian piano i governi si stanno attivando per redigere i propri piani e poter accedere ai fondi del Next Generation EU che potranno essere spesi tra il 2021 e il 2023. E niente, ringrazio nuovamente gli abbonati, che sono stati lo sponsor di questa puntata, e ci vediamo al prossimo video di WhatsApp Economy. Ciao! Ciao!